Perché questa decisione? Sicuramente è stata una decisione molto molto difficile da prendere. Sono stati giorni in cui ho pensato tantissimo qual è la cosa più giusta da fare. Ha prevalso la voglia di giocare, di fare bene, visto che per scelte che ci sono nel calcio quest'anno non ero considerato al 100%, però sono contento della scelta che ho fatto e ora devo sposare questo nuovo progetto, anche se lo dico veramente a malincure e lascio casa mia perché Gelbis è per me casa mia. Naturalmente, per un giocatore è fondamentale scendere in campo e dare il meglio di sé. Questa forza è la motivazione principale. Ecco, con la Gelbis ho detto che quest'anno ho poche occasioni in campo. L'Ebolitana sicuramente ti offrirà anche nuovi stimoli. Sì, sì, infatti è soprattutto una questione di stimoli. Ma io non voglio fare assolutamente nessuna polemica. Voglio precisare questa cosa perché col mister comunque non posso proprio dire che non mi tenevo in considerazione, anche se non giocavo titolare, entravo. Quindi non esiste questa cosa. È una questione mia, una cosa di questione mia personale. Nel senso che volevo essere considerato al 100%, ma ripeto, sono scelte che si fanno nel calcio e va bene così. Ecco, tu praticamente sei il calciatore più longevo nella squadra della Gelbis. Al momento lo eri fino a ieri, naturalmente questo non è un addio, un arrivederci, speriamo. Ma che cosa ha rappresentato per te questa lunga militanza nella Gelbis? Tu hai vissuto i momenti di gloria, ci sono stati i momenti di crisi, quindi chi meglio di te può raccontarci da protagonista questi ultimi anni della squadra di Vallo della Lucania? Ma sì, ma ti lascio... C'è arrivato qua che avevi 21 anni, un ragazzino. Sì, il primo anno mio a Vallo è stato 10 anni fa, 10-9 anni fa, ma non ricordo precisamente. Sono stati sei anni alla Gelbis, anche se non consecutivi. Mi lascio immaginare, ora vivo a Vallo e sono residente a Vallo, mi lascio immaginare che cos'è per me la Gelbis e che cos'è per me Vallo. Però lascio il cuore qua, ma ripeto, come hai detto tu, spero che non è l'addio, ma non arrivederci. Auguro il meglio alla Gelbis, alla società, alla squadra, che sono molto legato a loro. Lo sarò ancora, anche se non sarò con loro fino a maggio. E qui tu è stato anche la fascia di capitano della Gelbis. Le tue parole sono importanti in questo momento ai tifosi. Naturalmente continuano a seguire Pecora all'interno dell'Ebolitana, ma le tue parole sono importanti anche per quanto riguarda l'attaccamento che i tifosi del Cilento devono avere verso la propria squadra. Ma sì, ma indipendentemente da Pecora o non Pecora, la Gelbis e i ragazzi hanno bisogno dell'attaccamento che, a non del vero, domenica è stato qualcosa di molto emozionante, perché domenica siamo andati a giocare fuori casa, ma sembrava che giocassimo in casa. C'erano quasi 200 persone, una cosa che non vedevo da tanto tempo. Forse dal primo anno mi ha la Gelbis e non vedevo questo attaccamento. Spero che la cosa continui, anche perché stiamo facendo qualcosa di importante. Un campionato, siamo quarti, quinti, dico ancora siamo, però non è più così. Quindi spero che questo attaccamento ci sia ancora. E, ripeto, come ho detto prima, auguro il meglio alla Gelbis e non quest'anno. Spero di stare nella migliore posizione possibile. Il tuo ricordo più bello legato alla Gelbis? Ce ne sono tanti. Forse sono frasi fatte, a volte si dice sempre che sono tanti i momenti, però sicuramente c'è stato 3-4 anni fa, quando abbiamo fatto un meraviglioso campionato che siamo stati anche in testa nella classifica per qualche giornata. Non ricordo Cosenza, la ricordo come se fosse ancora oggi. Andare a vincere il 2-1 lì al San Vito è stato qualcosa di bellissimo. Come tutti i sei anni della Gelbis, ma quella giornata in particolare la ricordo con tanto affetto. Auguri. Grazie, sempre forza Gelbis.